Anche all'Aquila ci saranno anteprime mondiali, ci sarà un grande coinvolgimento soprattutto dei bambini e dei minori. È la prima volta che Cartoons on the Bay si svolge con una Winter Edition, con una seconda edizione nel territorio della stessa regione. In passato si svolgeva soltanto poco prima di Pasqua in una sola città. Da noi con lo stesso impegno economico abbiamo ottenuto con la RAI una collaborazione più intensa che coinvolge l'intero territorio abruzzese. Si alterneranno appunto l'Aquila e Pescara. Io spero che la buona riuscita e l'esperienza vissuta possa far crescere ulteriormente questo evento nei prossimi anni e rafforzare anche nella RAI la convinzione di aver fatto la scelta giusta nell'aver investito in Abruzzo e scelto l'Abruzzo come piattaforma per poter svolgere questo festival di livello internazionale. Ma è un'edizione dedicata all'Aquila in cui RAI Com, RAI Ragazzi e RAI Radio Kids saranno i protagonisti principali con un programma per le scuole che ha visto il tutto esaurito. Abbiamo dovuto addirittura respingere qualche richiesta perché avremo circa mille bambini in due giorni. Ci sarà un programma di retrospettivi ovviamente con il meglio di Cartoons on the Bay ma soprattutto due anteprime mondiali con la presenza di regista e attrice protagonista in sala venerdì 3 dicembre.